buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è venerdì 10 novembre 2023 il santo del giorno cominciamo subito con l'almanaco e vediamo chi si festeggia oggi oggi è la festa di san leonardo magno guardatelo qui è il papa di attila il papa che visse nel quinto secolo era il secolo della dissoluzione dell'impero romano quindi un secolo piuttosto turbolento turbolento anche per quanto riguarda il cristianesimo che allora era ancora gli esordi ebbene papa leone magno combatte contro le eresie in modo particolare a quella di eutiche e quella di nestorio condannata poi dal concilio di calcedonia dove si erano riuniti ben 630 vescovi ma l'episodio più ritratto più famoso che riguarda papa leone è quello della fermata di attila attila stava scendendo sulla penisola era diretto verso roma papa leone gli andò incontro e alzando la croce lo fermò vabbè dopo questo è un episodio che è stato un po così ritratto con un'aureola di particolare rilevanza da tanti tanti pittori comunque la caratteri l'indole di papa leone riuscì a fermare questo burbero questo burbero barbaro diciamo così che aveva veramente spazzato con le sue orde tutta l'europa questo è san leone magno vediamo ora le previsioni del tempo ecco i cieli sono in prevalenza parzialmente nuvolosi nella giornata di oggi con nubi in aumento dal pomeriggio nubi associate a pioggia quindi può anche piovere ci saranno anche rovesci a carattere temporalesco in serata il mare è poco mosso la temperatura 13 la minima 18 la massima il sole sorge alle 7.01 e tramonta alle 16.48 questo è un po il ritratto del tempo di oggi un tempo incerto un tempo perturbato siamo in autunno ed è la stagione giusta per questo genere di tempo tant'è che le falde idriche del nostro territorio si stanno finalmente riempendo d'acqua dopo un periodo lungo lungo di siccità ed ora apriamo i giornali apriamo i giornali e abbiamo sulla nostra schimania la pagina di fanno del resto del carlino vediamo subito l'apertura è una proposta interessante io dico della lega perché interessa un po tutti gli automobilisti lega stalli blu gratis per le auto green non è un provvedimento è una richiesta è una richiesta che la lega fa all'amministrazione comunale per una questione di carattere ambientale per una questione anche di inquinamento della dell'atmosfera inquinamento dell'aria dato che fanno supera il valore massimo delle polveri sottili tra le 30 e 50 giornate all'anno quindi questo incentivo dato alle auto elettriche alle auto ibride potrebbe migliorare anche la situazione del dell'inquinamento dell'aria dunque un parcheggio gratis per tutti negli stalli blu del perimetro comunale e accesso libero in ztl per i residenti in possesso di auto ecologiche questo è quanto suggerisce appunto la lega che vuole così incentivare l'uso di auto elettriche a fanno riducendo di conseguenza gli altri livelli di inquinamento raggiunti se questa se questa proposta fosse accolta dall'amministrazione comunale tutti quelli che hanno le auto elettriche anche le auto ibride insomma un po' a benzina un po' a metano potranno usufruire di questa facilitazione forse qualcuno che ora usa la benzina o il diesel potrebbe convertirsi appunto ad un sistema di alimentazione più ecologico passiamo all'altra notizia a fondo pagina immondizia dal finestrino delle auto in via del fiume il caso delle isole ecologiche che cosa accade in via del fiume diciamo subito che via del fiume è una delle vie con una viabilità che a lungo è stata disastrata a lungo i residenti hanno reclamato un intervento di bitumatura da parte dell'amministrazione comunale ora il problema però è quello delle isole ecologiche quando piove davanti ai cassonetti si formano delle pozzanghere le vedete qui in questa fotografia che impediscono appunto i cittadini di avvicinarsi ai cassonetti e quindi di depositare i rifiuti e allora cosa fanno i cittadini quelli più maleducati quelli più incivili passando con le auto tirano i sacchetti ovviamente non entrano nei cassonetti che vanno a finire qui ai piedi dell'isola ecologica e questo certamente non è un bello spettacolo quindi occorrerebbe magari dare una ripulita e poi anche una bitumatura a queste piazzuole davanti alle isole ecologiche le altre notizie e ieri c'è stata una conferenza stampa dell'amministrazione comunale congiunta con l'aset durante la quale è stato presentato un provvedimento di cambio delle luci pubbliche e delle luci di illuminazione delle vie della città la città ora sarà a lume led quindi una fonte d'energia più risparmiosa una fonte di energia più ecologica in campo tutta l'operazione costerà 2 milioni e mezzo di euro entro il 2024 quindi il prossimo anno sarà completato tutto l'intervento che viene attuato dall'aset saranno sostituiti oltre 9 mila corpi illuminanti e si risparmierà tantissimo sui costi un risparmio di almeno 400 mila euro il progetto si chiama full led quindi pieno un pieno di led è stato presentato appunto ieri mattina nella sala della concordia complessivamente ha spiegato l'energy man dell'aset marco santini saranno sostituiti 9 mila 200 corpi illuminanti che da sodio ad alta pressione diventeranno led di ultima generazione questo consentirà un risparmio del 43 per cento quindi molto rilevante sui costi dell'energia elettrica pari a 2 milioni 156 mila 941 kilowatt di petrolio equivalenti a 403 tonnellate di petrolio in sostanza si eviteranno 690 tonnellate di co2 quindi veramente un intervento rilevante anche dal punto di vista ambientale ebbene è da tempo che l'aset sta rimodulando tutti gli interventi di illuminazione nel centro storico in modo da risparmiare e da rendere più agevole la bolletta della luce e dobbiamo dire che importante è stato anche l'intervento di illuminazione dei passaggi pedonali che rendono più visibili gli attraversamenti da parte della mobilità quella più compatibile le biciclette i pedoni eccetera ieri è stata presentata è stata premiata dalla cof commercio tutta una serie di imprenditori che incentivano il turismo con la qualità dei loro prodotti che cosa è accaduto è accaduto che finalmente è stato dato un placet all'enogastronomia quale una delle attrattive maggiori del nostro turismo al pari del sole a pari dei monumenti a pari dell'arte della cultura l'enogastronomia attrae la gente perché perché a Fano si mangia bene si mangia bene quindi questo incentiva si mangia bene il pesce ma si mangia bene anche tutti gli altri prodotti che vengono dalla campagna i prodotti orticoli ebbene la cof commercio anche la cof turismo diciamo meglio ha voluto premiare ieri quegli imprenditori che si sono distinti per la qualità dei loro prodotti e sono stati 11 questi imprenditori sono stati veramente tanti e la qualità è veramente eccelsa ebbene quali sono questi produttori ebbene è stato premiata l'azienda di luca di luca ovvero quella azienda di fernando di luca quell'imprenditore che è andato in svezia e qui ha promosso tutti i prodotti fanesi e poi la sacchi tartufi l'azienda agraria guerrieri guerrino pasticceria e banketing la profumeria taussi la cosmesi italia la sagra dei garagoi di marotta la pasta la pasta montagna il consorzio di tutela e di valorizzazione dell'olio extravergine di cartoceto la mieleria anniballi e ricci on the road un'azienda di due ragazzi che fanno la gastronomia fanno la ristorazione su strada ebbene sono veramente prodotti questi di grande qualità per questo incentivano anche la presenza dei turisti nel nostro territorio ecco perché sono stati premiati ora giriamo la pagina e vediamo quello che accade a a a colli al metauro a colli al metauro bene si è fatta festa per delle atlete che hanno raggiunto un traguardo veramente molto alto ed è incomiabile colli al metauro si inchina alle regine delle bocce festa per le tre campionesse sedicenni e le quattro giocatrici che hanno conquistato addirittura il titolo nazionale femminile stasera la bocciofila metaurense di colli al metauro festeggerà le sue campionesse vale a dire le tre super sedicenni e le quattro giocatrici senior che hanno conquistato insieme il titolo nazionale femminile a squadre nella final tour disputatosi sabato scorso a campo gas a campo basso l'appuntamento per tutti è al bocciodromo di calcinelli alle ore 21 ad urbino ad urbino arriva veramente un riconoscimento molto molto importante perché il ministro della cultura san giuliano ha riconosciuto la festa del duca con il sigillo della qualità un imprimatur che ha veramente una forza impattante in tutta la serie di manifestazioni che si svolgono a livello nazionale ebbene sono 500 i grandi eventi che concorrevano a questa qualifica ebbene prima è arrivata a roma roma ne ha tante di manifestazioni ma seconda è arrivata la festa di la ita e il federicus theatrum di urbino sono secondi solo a quelli di roma ecco qua lo dice appunto il catenaccio festa del duca arriva il sigillo di qualità l'imprimatur del ministro san giuliano si asfalta la statale 73 bis ci sono deviazioni al traffico a bivio borzaga nei pressi di ferminiano cambia temporaneamente la viabilità stradale per permettere l'asfaltatura di un pezzo della statale 73 bis le attività sono inizio inizieranno stamane la zona interessata è quella di bivio borzaga rallentamenti al traffico ci saranno in questa tratto in questo tratto di strada ed ora vediamo quello che accade al processo contro andrea marchionni l'uomo che ha assassinato marina luzzi omicidio di marina luci le conclusioni della perizia disposta dalla procura marchionni era incapace di intendere di volere al momento dell'omicidio così è stato dichiarato appunto dagli esperti ora il processo è a rischio la sorella milena la sorella di marina milena dice purtroppo nessuno pagherà ebbene c'è stata anche la richiesta di trasferire il marchionni dal carcere di villa fastigi ad una rems e abbiamo visto anche ieri la notizia apparire sugli sugli altri sul sui giornali marchionni incapace di intendere volere omicidio di marina luci le conclusioni della perizia vediamo anche le notizie di pesaro dove c'è un rendiconto dei volontari della protezione civile che sono andati in toscana ad aiutare tutti i residenti disastrati dall'alluvione sono gli angeli della disperazione siamo riusciti a ridare il sorriso a gente devastata dal dolore veramente vedere in un tratto in una notte in pochissime ore così essere devastati da una furia indicibile dell'acqua del fango che penetra dappertutto all'interno delle case distrugge i mobili ricordi gli affetti è veramente una cosa terribile il racconto dei volontari della protezione civile della provincia quel signore che aveva perso la testa e ricordi con la madre malata sulla carrozzella alla fine ci ha salutato con la serenità ebbene anche questo è un piccolo successo che ridà un po di speranza a coloro che hanno vissuto questa terribile esperienza esplode a colombarone la psicosi dei furti ma insomma più che psicosi è un atteggiamento che si rifà per quanto sta accadendo in quanto la frazione è stata veramente presa di mira dai ladri dateci le telecamere dicono i residenti c'è stata una raccolta di firme che in breve ha raggiunto le 50 unità che è stata depositata tramite un protocollo di richiesta al bar crazy raccolta di firme per da inviare al prefetto sarebbero un deterrente efficace ieri è stato segnalato un altro un altro colpo che si aggiunge poi a quelli che sono verificati nei giorni precedenti il consigliere di quartiere dice non si può vivere così con la preoccupazione costante che la propria casa venga invasa appunto dai ladri ed è veramente una cosa preoccupante vediamo anche questo articolo che riguarda nuovi servizi in arrivo a pesaro c'è una il work diciamo così il un sistema che dà la possibilità ai giovani di riunirsi e di usufruire di una sede per la loro attività nuovi servizi in arrivo sale per studio e lavoro aperte 24 ore su 24 chi è che realizza questa cosa è art lab che lancia la sfida si chiama art lab pesaro co-working culturale ed è stata a questa iniziativa aperta alle porte della città verrà inaugurata con due appuntamenti il primo domani il secondo domenica si tratta di un nuovo spazio che è in via guerrini 25 a monte granaro che accoglierà studenti lavoratori artisti e chiunque abbia bisogno di un luogo per esprimere la propria creatività e c'è un particolare questi locali saranno aperti 24 ore su 24 sette giorni su sette quindi anche durante le festività chi ha l'idea chi ha un'attività che però non ha una sede adatta per svolgerla ecco può fare riferimento a questa iniziativa e il co-working un sistema già in atto da tante tante parti che può mettere a disposizione spazio ma anche attrezzature per svolgere questa attività il costo è molto limitato 5 euro al mese gabice strage di tamerici la protesta degli ambientalisti lupus in fabola contro il comune il sindaco scelta dolorosa ma inevitabile non tutti piacciono gli arbusti degli umili tamerici ma quanto poi si abbattono suscitano le proteste degli ambientalisti e lupus in fabola puntualmente non appena si vede che qualcuno minaccia oppure vuole abbattere degli alberi insorge e cerca di evitare questo fatto che priva il nostro ambiente di una vitalità importante che dà ossigeno e quindi costituisce un elemento connaturale alla natura stessa ebbene abbiamo visto quello che oggi pubblica il resto del carlino quindi apriamo il corriere adriatico sulla pagina di fano abbiamo la storia di un bambino immigrato proviene dalla ucraina questo paese tormentato dalla guerra ebbene venuto in italia insieme alla mamma e il papà fuggiti dalla loro città mariupol una città vittima una città che è stata bombardata mille volte è giunto in italia è stato ospitato nella nostra località prima dai frati a fossombrone poi dall'associazione san paterniano poi da alcune famiglie alcune famiglie locali e quindi ora è a lucrezia ma nel frattempo il papà è deceduto e la mamma è rimasta sola appunto con questo bambino è deceduto per malattia ecco perché ha avuto il permesso di spatriare dall'ucraina perché già si sentiva male quando era nel proprio paese che cosa è accaduto a questo bambino ha fatto domanda per essere iscritto nella scuola di lucrezia ma alla scuola di lucrezia ha detto no ha detto no ci sono delle motivazioni perché ha detto no il bambino è un bambino particolare così come è stato segnalato dalla mamma avrebbe bisogno di un ambiente protetto di un ambiente silenzioso cosa che non poteva trovare nel plesso di lucrezia in quanto già le aule erano state congeniate preparate per già la presenza di alcuni bambini con handicap piuttosto grave e quindi la dirigente aveva segnalato il plesso di cartoceto ma il plesso di cartoceto è lontano la mamma non ha mezzi di trasporto e quindi la mamma ha chiesto aiuto tramite l'associazione della comunità ucraina al comune di fano in realtà dice la dirigente noi non abbiamo detto di no abbiamo messo questa richiesta in stallo e cerchiamo di risolvere il caso poi alla fine deve diventare un affare di stato e beh venga pure a lucrezia però insomma la situazione è quella che abbiamo presentato appello per un bambino ucraino un posto nella scuola di lucrezia si mobilita la comunità di profughi dirigente perplessa ma non chiude la porta così come abbiamo detto e poi a fondo pagina di questa apertura del Corriere Adriatico Sufano abbiamo la premiazione degli imprenditori che è avvenuta ieri nella sede della Copromo della New Copromo anche questa è un'azienda di grande qualità che esporta il prodotto fanese in diversi paesi del mondo in modo particolare in Spagna un'altra apertura l'apertura della seconda pagina del Corriere Adriatico è dedicata alla conferenza stampa che si è svolta ieri nella Sala della Concordia per presentare il progetto Fano Full LED le bollette tagliate di un terzo io leggendo quest'articolo però non ho capito se le bollette tagliate di un terzo sono quelle degli utenti oppure sono quelle del Comune perché si parla di illuminazione pubblica la Giunta comunque presenta l'operazione per rinnovare l'illuminazione pubblica in dieci mesi saranno sostituite oltre 9.000 lampade con vantaggi per la sicurezza e per l'ambiente è certo che se risparmia il Comune risparmiamo un po' anche tutti noi perché poi questi soldi che si risparmia potrebbero potranno essere impiegati per altri provvedimenti ed ora andiamo a Fossombrone anche il Corriere pubblica un articolo sul processo nei confronti di Andrea Marchionni l'assassino di Marina Luzzi l'assassino reò confesso capace di stare in giudizio l'omicida andrà a processo uccise la cognata con il riconoscimento dell'infermità mentale sarà affidato al REMS questo è un po' lo sviluppo dell'appuntamento giudiziario che si svolge proprio in questi giorni e poi si parla della Contessa della Contessa che è chiusa ormai da un anno e questo impedisce veramente la diciamo così la velocità del traffico per raggiungere importanti centri Perugia, Terni, Roma e via dicendo ebbene in questo caso l'UDC chiede di rilanciare il progetto già esistente di un percorso alternativo Contessa si deve eliminare l'imbuto del valico dove appunto c'è la galleria che poi va giù verso Gubbio L'UDC provinciale punta l'attenzione sulla Fano Roma direttrice viaria che necessita di tanta attenzione da parte degli enti e delle amministrazioni pubbliche di Marche e Umbria Speriamo che il 31 dicembre sia veramente la data rispettata per aprire almeno al momento questa importante via di comunicazione che quest'anno ha privato la nostra costa di molti turisti provenienti dall'Umbria Siamo nella Val Cesano e parliamo sempre di viabilità perché ora Fonte Avellana, questa bellissima località ai piedi del Catria avrà una migliore accessibilità sarà migliorata la strada che conduce al convento i fondi della regione e della provincia a sostegno del turismo religioso e montano 560 mila euro, una cifra considerevole per agevolare la fruibilità della strada verso Fonte Avellana Vediamo anche la pagina di Senigallia dove c'è un ritorno sulla vicenda dell'ultraleggero che è caduto nella Val Cesano Ultraleggero precipitato parla il copilota l'aereo si è capovolto e poi lo schianto Vi ricordate che ci sono state due le persone infortunate in merito a questo incidente il pilota che ha avuto delle conseguenze più gravi che ora è ricoverato all'ospedale di Torrette di Ancona e il copilota che è uscito dalle lamiere del velivolo con le proprie gambe e quindi ha avuto delle conseguenze minori rispetto appunto il suo compagno è lui che può parlare e dice si tratta di un 73enne riminese forse c'è stato un cedimento strutturale intanto la procura indaga per lesioni colpose per quanto è avvenuto comunque lui ha sentito uno schianto e probabilmente è stato qualcosa nella struttura dell'aereo a precipitare e a cadere ebbene con questa notizia siamo al termine della nostra rassegna stampa chiudiamo i giornali e vi diamo appuntamento come sempre alle 7 di domani mattina grazie per l'ascolto e a risentirci grazie per l'ascolto e a risentirci